Non è la prima volta che il capo dello Stato Sergio Mattarella utilizza un anniversario importante, sono passati per l'appunto 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni per lanciare dei messaggi che riguardano la contemporaneità, la politica, la socialità, in questo caso il capo dello Stato lo ha fatto ricordando che da proteggere sono le persone, non le etnie, forse un messaggio rispetto a quello che è maturato nel dibattito politico negli ultimi mesi, il diretto interessato, il Ministro Lollobrigida per parlare chiaro dice che non è così, c'è un'intervista anche che leggerete che sostiene questo, ve lo dico perché oggi i giornali parlano soprattutto di questo rispetto appunto all'agone politico e anche istituzionale e rispetto anche al dibattito che si sviluppa nel futuro riguardo a questo, parleremo anche con la nostra ospite di oggi di temi che riguardano l'inclusione, la partecipazione, la discussione e vedremo in che forma, certo non smetteremo di parlare come non fanno i giornali della guerra, la guerra che c'è in Ucraina perché ci sono ovviamente delle novità importanti e dobbiamo dire non solo Ucraina perché a questo punto la controffessiva comincia a farsi sentire, c'è un interessante reportage di Marta Serafini sul Corriere appunto riguardo alla controffensiva Ucraina e ai primi attacchi che avvengono su territorio russo, non smetteremo di parlare ovviamente dell'alluvione avvenuta, potrei dire in corso perché gli effetti sono devastanti e li sentiamo ancora specialmente nella Romagna, nel territorio romagnolo ma che hanno sforato il nord delle Marche, un pezzo della Toscana, l'Emilia e che ovviamente sono al centro del dibattito come altri temi locali importanti che affronteremo, lo facciamo come ogni volta qui a Prima di Tutto. Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro, www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere socio. Grazie a tutti. Buongiorno, buongiorno, bentornati a Prima di Tutto la rassegna stampa ragionata di TV Prato, andiamo immediatamente a confrontare i titoli dei giornali come facciamo ogni giorno, cercando anche di suggerirvi, oltre che di andare in edicola, anche di leggere alcuni articoli che abbiamo selezionato per voi e che pensiamo possano essere stimolanti, consentitemi di ringraziare chi rende sempre tutto questo possibile. In studio oggi abbiamo Jacopo Richiusa in regia Renato Tinti, ma andiamo subito sui giornali, oggi partiamo dal giornale del direttore Maurizio Molinari della Repubblica perché ha scelto di titolare, di dare il titolo principale, l'apertura, come si dice in gergo giornalistico, a quello che è il dibattito di cui vi dicevo, basta parlare di etnia, è una citazione, una citazione impropria per dire la verità, come spesso fanno i giornali, adesso ve la leggiamo a citazione diretta, però è quello che vuole dire il capo dello Stato che ricorda così i 150 anni, ci dice Repubblica, della morte di Manzoni condannando per l'appunto populismo, nazionalismo e richiami alla razza Lollobrigida che è appunto il ministro che nei giorni scorsi, lo ricorderete benissimo, da qui ne abbiamo parlato molto, insomma è finito al centro di alcune polemiche per alcune sue dichiarazioni in questo senso, ricordiamo la locuzione sostituzione etnica poi ripetuta in altre forme, non si riferiva a me, dice Lollobrigida appunto rispetto al capo dello Stato e comunque l'autore dei promessi sposi ribatte il ministro, era un patriota che difendeva la famiglia, insomma qua c'è anche un commento molto salace di Stefano Cappellini, la firma politica di Repubblica che parla del confine della decenza, dice Cappellini non tutto è opinione, non tutto è fisiologico, scontro di valori e posizioni, ogni tanto capita che nel dibattito pubblico sia necessario un argine per evitare che torti e ragioni svolazzino come piume dentro una tempesta, per fortuna in questi casi c'è Sergio Mattarella, c'è anche un'analisi molto interessante su Repubblica di Carlo Cottarelli sul recovery, sul piano che sta tanto facendo discutere e che è al centro diciamo anche di una lite, sarebbe al centro di una lite fra ministri, ce ne appunto rendono conto i giornali, lite fra ministri sulle modifiche al PNRR, ovviamente il piano nazionale di ripresa e resilienza appunto che viene dai fondi europei del Next EU, è appunto il PD, dice resa del governo riguardo a questo, ma andiamo a confrontarlo anche con gli altri titoli di giornali, per esempio con quello dell'Avvenire che sceglie di aprire su un cammino, oggi parleremo di un cammino anche se è un cammino di una comunità politica, in questo caso è il cammino di una comunità religiosa e si parla appunto della chiesa che apre il suo cantiere sinodale, appunto un dialogo a cuore aperto, dice il giornale dei Vescovi per l'appunto in stile familiare sui temi dell'attualità ecclesiale e sociale, il lungo cordiale incontro fra il Papa e i Vescovi italiani ha aperto in Vaticano l'Assemblea Generale della CEI che oggi vedrà l'intervento introduttivo del Cardinale Presidente Zuppi, lo ricorderete il suo esordio, l'esordio di Zuppi è stato un esordio pretese per dire la verità, visto che vi trasmettiamo da questa terra, ricordiamo appunto l'intervista che il direttore di questa emittente Gianni Rossi ha fatto al Cardinale proprio in apertura del suo mandato pochi mesi fa, bene andiamo ancora avanti con le prime pagine dei giornali per farvi vedere che invece c'è una terza apertura ancora diversa, su un tema ancora diversa da parte del Corriere della Sera ed è sulla notizia di cui vi parlavamo sempre precedentemente, ovvero l'alluvione, perché? Perché ci sono tutte le misure, oggi appunto arriverà il decreto che prevederà tregua fiscale, stipendio gli statali che non possono lavorare e altre misure importanti, ma andiamo all'interno dei giornali perché abbiamo selezionato per voi anche alcune notizie che parlano di questo, per esempio qui c'è un articolo di Fabrizio Caccia che parla proprio dei mutui della tregua fiscale e dei 300 milioni che sono stanziati subito, ottimizzare i provvedimenti dice Caccia, era questo l'obiettivo di Giorgia Milone alla vigilia, ovviamente la Premier, alla vigilia del Consiglio dei Ministri di oggi previsto alle 11, fra pochissimo a Palazzo Chigi che varerà il super decreto da oltre 300 milioni di Euro per i primi aiuti a famiglie e imprese colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, diciamolo subito, 300 milioni di Euro per il cittadino normale possono sembrare una cifra esagerata, possono sembrare una cifra ingente più che esagerata, in realtà la stima dei danni, una prima stima dei danni che è stata operata in queste ore calcola in diversi miliardi di Euro, forse 5 e forse anche di più, il danno che è stato generato da questa alluvione, da questo incredibile avvenimento, incredibile perché il dolore e la tragedia che ha generato, ve lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, incredibile anche perché si fa fatica a capire come in generale l'umanità non riesca a comprendere che qualcosa di grave sta accadendo, che il surriscaldamento globale sta minacciando non solo il pianeta ma anche le nostre vite, anche il modo di viverle e quindi insomma vedremo come prosegue anche il dibattito culturale, però qui c'è ovviamente anche un retroscena di Monica Guerzoni, sempre sul Corriere Meloni dice che appunto va raschiato il fondo del barile, ma il retroscena è soprattutto politico, perché? Perché c'è oggi contestualmente nel Consiglio dei Ministri anche la nomina forse di un commissario, in realtà ieri sera il governo ha detto che non sarà nominato nessun commissario, perché? A questa emergenza ovviamente perché il candidato naturale a gestirla, ovvero il Presidente dell'Emilia-Romagna Bonaccini non potrà essere, dato che c'è un no della Lega riguardo a questo, ricordiamo qualche scaramuccia della Lega con Bonaccini, soprattutto in occasione delle elezioni che sancirono la prima elezione di Bonaccini che sconfisse la Lega e che battagliò direttamente con Salvini. Ancora un'altra notizia molto importante che voglio segnalarvi è questa, probabilmente ieri è finita molto velocemente nel calderone delle notizie, ma è molto grave, nel 2010 ci dissero, è un virgolettato ed è un titolo, il ponte crolla, io non feci nulla, temevo per il mio lavoro. Di chi sono queste parole? Sono del ex amministratore delegato di edizione, che è una società legata a quelle che della famiglia Benetton gestivano le autostrade, le parole di Miano sono arrivate durante il processo e hanno generato ovviamente grande sconcerto, oltre che la rabbia delle vittime, certo ci si può riflettere molto, dire la verità non è mai tardi per dire la verità, effettivamente questa sa molto di confessioni anche da parte di un uomo che probabilmente sta facendo i conti con la propria coscienza. Leggo qualche riga, emerse che il ponte e questo è il suo virgolettato aveva un difetto originario di progettazione, si parla ovviamente del ponte Morandi e che era a rischio crollo, chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza, la sicurezza ovviamente della struttura e Riccardo Mollo che era appunto l'allora direttore generale di Autostrade per l'Italia mi rispose c'è l'auto e certifichiamo, facciamo da soli, non dissi nulla e mi preoccupai, era semplice, o si chiudeva o te lo certificavo un esterno, non ho fatto nulla ed è il mio grande rammarico, questo è quello che è accaduto ieri nell'aula del processo, è stato veramente clamoroso soprattutto per chi segue questa vicenda giudiziaria, ancora è lo scontro sul PNRR e sul destino dei progetti, sono un caso, le frasi di Fitto che lui ha pronunciato durante un convegno sulla giustizia riportate da La Stampa e Quotidiano di Torino in una maniera che hanno fatto poi smentire al Ministro, però è partita la bambola come si dice in gergo, è partita la polemica, c'è anche quest'altro retroscina di Paolo Di Caro che ci racconta come appunto ci sia un decalogo per i militanti e ci siano tre vicecoordinatori, sono queste le idee che l'ormai eterno Silvio Berlusconi ha per il rilancio di Forza Italia e questa insomma l'ultima notizia che voglio farvi vedere dal Corriere della Sera, Renzi Calenda e il divorzio è rinviato, firmato il patto per le europee, questo è interessante, nei giorni prossimi ne parleremo più diffusamente, con fronte al Senato il leader di Azione Calenda appunto dice insomma che tutto è possibile anche ricostruire la fiducia, vi facciamo vedere anche qualche pagina interna della Repubblica prima di passare ai giornali locali, la prima notizia che abbiamo segnalato per voi è questa, quella di cui abbiamo parlato in apertura, l'avviso di Mattarella, la persona e non l'etnia a diritto di protezione, questa è la citazione corretta riportata nel titolo a pagina 2, appunto ogni passaggio, ogni opera ci ricorda Federica Venni che ha scritto questo articolo, ogni citazione diventa lo spunto per un denso e inaspettato discorso politico costruito con parole decise che condannano il populismo, il nazionalismo esasperato, l'uso strumentale dei social media, tutto ciò che minaccia l'umanità italiana e che classifica l'umanità in base a razza e provenienza, lo rileggiamo, nazionalismo esasperato, uso strumentale dei social, classificare l'umanità in base alla razza, mi sembrano tutte cose che in realtà siano molto attuali e non è un caso che il Presidente abbia utilizzato questo gergo e questo tipo di ricordo, qua l'intervista che vi dicevo, Lolo Brigida, l'autore era un patriota e difendeva la famiglia, questa è l'intervista che è stata fatta appunto da Emanuele Lauria, appunto è interessante anche vedere quello che il Ministro risponde riguardo all'appello e quindi vi invitiamo a farlo come ogni giorno, Manzoni e la sua Italia, vi faccio vedere anche questo bellissimo, davvero bellissimo approfondimento di Corrado Augas che ci racconta un po' la lettura politica dello scrittore, insomma oltre ai promessi di sposi ovviamente il suo capolavoro, molto interessante. Ultima notizia che volevo segnalarvi sempre riguardo all'alluvione su Repubblica, il sonno dei governi nell'Italia che frana in 12 anni spesi solo 9 miliardi su 17, Giuseppe Colombo fa un po' di conti rispetto a quello che è successo negli ultimi 15 anni e anche rispetto a quello che è la mancanza di conseguenza delle parole ai fatti, i fatti alle parole per essere precisi rispetto a quello che a volte promette l'istituzione e non riesce invece a mantenere un problema che di tutti non ha colore politico, ovviamente il MEF a caccia dei fondi per l'Emilia Romagna, appunto tra i 2,5 miliardi del PNRR, questo articolo di Valentina Conte, anche di questo parleremo nei prossimi giorni perché si è fatto riferimento a quali saranno i fondi da poter utilizzare. Molto velocemente andiamo sui giornali locali per farvi rivedere prima di avviare la discussione con la nostra ospite di oggi, a parte il titolo della nazione che si inserisce ovviamente sempre nel solco come fa il giornale degli esepini con un titolo nazionale anche rispetto alle questioni locali, decreto alluvione stop alle tasse e si vedono ancora molte donne in questo caso, siamo contenti che vengano ritratte in quello che è un'opera di almeno ricerca, di salvataggio nella morsa del fango appunto, l'acqua si ritira ma è corso contro il tempo per ribellarsi dalla melma e questo è il punto. Vediamo qua anche in taglio alto una notizia molto importante che vedrete caratterizzerà i prossimi giorni, strage dei gergofili, si parla della strage del 93 a Firenze appunto, ci sono ancora interrogativi insoluti, c'è un articolo di Pontini a pagina 13, ricorre proprio in questi giorni, ricorderete che l'anno scorso abbiamo celebrato questo momento con il procuratore Giuseppe Nicolosi, ex procuratore che da poco è andato in pensione e che a lungo ha indagato sulle stragi di mafia, ancora la Gazzetta dello Sport per farvi vedere la notizia sportiva di oggi, Juve un incubo, un incubo è insomma la sanzione che è arrivata a meno 10, ricorderete prima a meno 15 punti in campionato ora sono diventati meno 10 secondo appunto la Corte d'Appello federale, è una notizia che fa molto discutere oggi, Corriere Fiorentino, parcheggi vuoti e sosta selvaggia, si parla ovviamente di Firenze ma anche della Fiorentina, spinta verso Roma in 6 mila al Franchi per l'allenamento, ieri ne abbiamo parlato diffusamente con i nostri ospiti a prima di tutto sport, Matteo Lignelli e Luca Cellini, ancora avanti con Repubblica Firenze, controlli palazzo per palazzo sull'evasione della Tari, si parla ancora appunto del capoluogo toscano ma anche della strage dei gergofili, vedete qui sul taglio alto con questo articolo di Maria Cristina Carratù, manca un tratto di strada appunto per arrivare alla verità, siamo ancora su quel punto, concludiamo la nostra rassegna con i giornali più strettamente locali, questa è l'edizione di Firenze, Prato e Dempoli, si parla di Prato con un articolo di Formichella sulle partecipate, grandi manovre per le nomine, andiamole a vedere questa pagina che ci parla e ci fa vedere i protagonisti delle partecipate, qui ne abbiamo due molto noti nel territorio pratese ma non solo, si parla appunto di Nicola Cellini e Paola Abati che è direttore generale di Estra, Nicola Cellini sapete guida Alia, dice appunto Formichella prima il bilancio di Alia, il gestore appunto dei servizi ambientali in votazione il 26 maggio, poi la partita vera sarà tutta concentrata sulla nomina del CDA, del Consiglio di Amministrazione e dunque della Multi Utility, questo è un tema di cui abbiamo parlato spesso e se ne riparlerà a giugno con una nuova assemblea, se volete leggere in retroscena appunto prendete il tirreno che ne parla, come il tirreno pratese parla della paura in via Valentini perché ieri c'è stato un accoltellamento in pieno giorno di un uomo di 50 anni insomma in strada, ancora non sono note le cause e l'ultima pagina invece del tirreno locale parla del Prato Film Festival che fa 11 edizioni e torna alle origini di quegli studenti, insomma molta cultura in questa pagina perché abbiamo qua anche diciamo così due aspetti importanti, culturali della città sulla destra, vediamo appunto ancora l'assessore Barberis che prosegue anche in vista del festival che ci sarà nei prossimi giorni nella sua opera culturale rispetto a Pratos Forest City e sulla sinistra vedete un titolo che il tirreno dedica al centro peci dei lettori che non è altro che la riproposizione diciamo così della grande iniziativa fiorentina che invece diventa diffusa e pubblica, a questo proposito vi faccio vedere anche sulla Nazione un articolo che ne parla di questo festival che dura tre giorni ma soprattutto vedete il volto anche con questo taglio di capelli molto particolare di appunto Bernardo Zannoni che è il vincitore del primo campiello con i miei stupidi intenti, un libro stupendo di cui appunto il giovane scrittore parlerà con gli studenti nel primo giorno del festival. Già che siamo sulla Nazione concludiamo con questa edizione coordinata da Leonardo Biagiotti appunto per un referto serve l'avvocato, paziente attende per mesi la risposta e questo è il titolo di una biopsia e poi arriva solo dopo la lettera di un legale insomma è quello che viene diciamo sottolineato e c'è sulla Nazione anche qualche novità sulla giunta di Riccardo Palandri che sapete ha vinto le elezioni appoggio a Cagliano con il centrodestra rovesciando l'amministrazione centrosinistra, ultimi ritocchi della giunta di Riccardo Palandri in vista del Consiglio Comunale di venerdì durante il quale si insedieranno consiglieri, sindaco e assessori dopo il voto del 14 e 15 maggio, se i nomi degli assessori sono sicuri l'attribuzione delle deleghe lo è un po' meno tanto che leggo dall'articolo di Maria Serena Quercioli appunto tanto che anche ieri sera era in programma un incontro, il vice sindaco dovrebbe essere Diletta Bresci a cui andranno sicuramente le deleghe della cultura e dell'anagrafe, per il resto voglio svelarvi tutte le deleghe della giunta insomma di Poggio Caiano perché è giusto che leggiate anche il giornale e soprattutto è giusto che discutiamo con Maria Logli che coordina la segreteria del Partito Democratico di Prato, insomma quello che sta succedendo, l'attualità, anche un'iniziativa importante che è in ponte, lo facciamo subito dopo la pubblicità. C'era una volta il monopolio dell'energia, poi è arrivato il mercato libero, una selva di offerte ricca di insidie dove non è facile districarsi, ma oggi con Multienergia hai la garanzia di avere tariffe sempre convenienti con la massima trasparenza. Vai su multienergia.com. Multienergia, la trasparenza è la nostra forza. Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura! Parcheggiare al Serraglio è come essere già in centro! Parcheggio del Serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore. Parcheggio al Serraglio, il tuo parcheggio in centro. Buongiorno di nuovo, buongiorno e bentornati alla seconda parte di Prima di Tutto, quella nella quale cerchiamo di approfondire con un ospite, un protagonista della Toscana, quella che è l'attualità e anche quello che sta per succedere, perché è importante fare l'analisi rispetto anche alle iniziative, non solo agli accadimenti. Sono contento di farlo ancora una volta per la seconda volta ospite, però in un'altra veste, adesso lo diciamo subito qui, prima di tutto, grazie di essere qua a Maria Lugli. Grazie a te, grazie a voi, buongiorno. Buongiorno, l'ultima volta che è venuta era segretaria di missionaria dei Giovani Democratici, se non ricordo male, ma adesso ho fatto l'upgrade, sta scherzando, però insomma coordina nella segreteria del Partito Democratico di Prato, ho iniziato questa nuova esperienza e stiamo cercando di lavorare, quello di cui mi occupo in particolare, soprattutto da qui alle amministrative che ci attendono, è quella di cercare di garantire il più possibile l'apertura, la partecipazione, la co-costruzione del programma sui vari temi che interesseranno poi chiaramente la sfida e le amministrative del nostro comune pratese, ma non solo, chiaramente. A proposito delle amministrative, credevo l'avessero mandato avanti, visto che abbiamo parlato di Pallandri, a spiegare la sconfitta del Poggio, ma questo ne parleremo dopo, non facciamo sconti perché giustamente il PD è partito protagonista nel territorio, però è, anzi, parliamone subito, non tanto di Poggio Caiano ma di questo, ha a che fare con una dinamica, se vogliamo, anche particolare. Ecco, so che in questi giorni avete avviato anche una discussione, non solo in vista delle amministrative, ma anche in vista delle amministrative. Non so se il nostro regista può mandare anche la foto di alcuni volantini che ho visto, molto particolari, che hanno attirato subito la mia attenzione, esattamente, e che sono il motivo principale per cui ho deciso oggi di invitarla. Cosa sono? Ce lo spieghi lei? Certo. Allora, diciamo che in seguito agli stati generali del lavoro, che hanno visto una grande partecipazione di forze politiche, sindacali, associative, per parlare di che tipo di lavoro vogliamo e non soltanto appunto a livello emergenziale, ma cercando di costruire a livello strutturale un creare le condizioni affinché ci sia un dialogo, ci sia un elaborazione, non ci si limiti a subire i fenomeni, ma si provi anche ad avere un ruolo proattivo nel guidarli e nel costruire una cultura comune dei diritti, della dignità del lavoro, portando avanti anche battaglie come quella della settimana corta. Abbiamo pensato, abbiamo visto la risposta molto positiva e pensiamo che sia necessario che il partito si spalanchi in questo momento. Questo chiaramente si collega molto anche al tema delle amministrative, ma ci arriviamo dopo. L'idea è che sui temi che interessano maggiormente la città e la cittadinanza, dobbiamo arrivare per tempo ad aver costruito un dialogo con tutte le parti in causa e chiaramente quando si parla di immigrazione, integrazione, intercultura, diversità culturali nella nostra città, non solo abbiamo molto di cui parlare, ma possiamo anche ammire ad essere, lo diciamo da anni ormai, il laboratorio di politiche di inclusione, di integrazione, politiche sociali, perché parlare di accoglienza, parlare di che modello di inclusione abbiamo significa parlare di modello di sviluppo, significa parlare di un modello di politiche sociali per tutta la nostra cittadinanza. E' quasi un'opportunità da cogliere, ma anche io sostengo da tempo che, insomma al di là della comunità politica che poi l'analizza, è proprio questo il senso. Prato offre già strutturalmente una serie di possibilità che magari in altre città o in altre realtà devono essere indagate, diciamo un po' con una fase in cui si deve andare a ricercare con il lanternino. Non è facile nemmeno qui, insomma avere a che fare con persone che parlano lingue diverse, che provengono da molti posti, però sicuramente c'è una possibilità fisica maggiore, è vero? Allora, diciamo sì che la nostra città da decenni ormai è una delle più studiate in Europa e nel mondo, solo che spesso noi non la studiamo abbastanza e forse anche la politica ha bisogno di farsi guidare, di ascoltare, sia per la sua funzione di rappresentatività, per dare davvero significatività a quello che è il livello di rappresentanza, di rapporto tra cittadinanza, se la intendiamo in termini porosi, quindi le persone che abitano, che danno vita alla nostra città e alle nostre città, o se la intendiamo a livello semplicemente formale e quindi attraverso una normativa che è imbecchiata malissimo. Questo lo dicono persino gli autori della normativa, quindi siamo non sospetti. Per questo motivo abbiamo bisogno da una parte di... Che non sono della sua parte politica. Assolutamente, però anche la mia parte politica a livello di governo, di riforma della normativa attuale in materia di immigrazione e cittadinanza non ha saputo portare avanti riforme strutturali quando era il governo, ci siamo limitati a mettere cerotti sulle ossa rotte, là dove proprio fosse fondamentale. Anche i decreti con cui siamo andati a rispondere e a cercare di compensare gli effetti catastrofici dei decreti sicurezza di Salvini, comunque non sono stati da parte nostra una risposta, non avevamo forse la capacità politica, ma forse abbiamo rinunciato in partenza in questi anni anche a portare avanti una battaglia culturale, a portare avanti una riforma strutturale che esprima davvero la nostra idea, la nostra visione, costruita insieme a chi ogni giorno il fenomeno migratorio lo vive e chi lavora in quell'ambito, chi ogni giorno lotta per i diritti di queste persone nonostante la tessitura normativa e anche necessariamente a livello di risorse economiche che va a supportare e a sostenere questi servizi sia sempre più sfilacciata. Questo l'abbiamo visto anche con le recenti vicende legate al decreto cutro, con lo smantellamento di quella ultima spiaggia di protezione speciale che già andava a compensare un'enorme mancanza, è venuta meno la protezione umanitaria. Per questo ne abbiamo fatto un appello, abbiamo fatto un appello alla società civile, ai corpi intermedi, alle cooperative che si occupano di accoglienza, ai servizi del territorio, ma anche e soprattutto alle comunità, alle associazioni di migranti, alle minoranze etnolinguistiche del nostro territorio che da anni lottano per avere più voce in capitolo rispetto a quanta non consenta un documento o a volte la stessa struttura di visibilità a cui siamo abituati. Per questo il 27 maggio abbiamo lanciato gli stati generali delle comunità. Sarà una grande giornata di ritrovo, di dialogo. Saremmo organizzati al circolo di San Giusto in sette diversi tavoli tematici in cui approfondiremo i temi delle questioni, dei problemi di vita quotidiana che vivono le persone che hanno una storia, un background migratorio o che appunto appartengono a una minoranza etnolinguistica a livello di casa, lavoro, permesso di soggiorno, discriminazioni strutturali, di discriminazioni intersezionali, di scuola, abbandono scolastico, ma anche di promozione culturale, di come la città cambia e deve cambiare rendendosi il più possibile permeabile a queste contaminazioni, ai nuovi bisogni che molto spesso non hanno la voce o il diritto formale per esprimersi. In questa giornata ci divideremo in tavoli, parleremo di tutte queste tematiche a livello locale ma anche a livello nazionale europeo. L'obiettivo, l'ambizione infatti è quella di lanciare da Prato e dalla Toscana, perché abbiamo avuto adesso anche l'adesione del Partito Democratico della Toscana, una proposta verso il nazionale e verso l'Europa. Io la stavo per chiedere, è solo una discussione o una discussione che produce anche un'iniziativa che possa camminare con le sue gambe? Sicuramente i momenti di confronto sono utili, però non possiamo fermarci a questo, dobbiamo dar seguito alle iniziative perché giustamente le persone sono anche stanche di primi passi. e così come con gli stati generali del lavoro si sta proseguendo sul lavoro di elaborazione, di proposta, di concretizzazione in diverse direzioni, però poi verrà Axel a parlarne, quindi non voglio spoilerare troppo. Certo, ovviamente stiamo parlando di Fazio che è responsabile, immagino, del lavoro. Assolutamente, allo stesso modo abbiamo pensato a due livelli di continuazione di questo tipo di lavoro. Da una parte c'è il livello locale e regionale sul quale capiremo che cosa possiamo fare da una parte per compensare la mala gestione di governo che appunto utilizza terminologie suprematiste come quella di sostituzione etnica con richiami calergisti spaventosi. tra l'altro il ministro in quell'occasione poi voleva specificare, se non ricordo male, ma io non sono contrario all'immigrazione regolare. Il primo nemico dell'immigrazione regolare è proprio l'immigrazione clandestina, come se non fossimo noi a tracciare la linea tra che cosa è clandestino e che cosa è regolare, come se non fossimo noi carenti da anni, da decenni nel costruire un sistema per arrivare nel nostro paese e in Europa e accompagnare poi le persone verso l'autonomia, la regolarizzazione, la ricerca di una casa, la possibilità di formarsi, di vedere riconosciute le competenze acquisite nel paese d'origine. Sicuramente lui più di noi, come se non fossimo noi, ma lui più di noi perché è il governo, insomma perché è in maggioranza, poi insomma il Parlamento legifera anche su questo e stabilisce quei limiti di cui lei sta parlando. Senta, le faccio delle domande anche un po' provocatorie per capire meglio, no? Quando si vede il simbolo di un partito, non parlo per forza del PD, però diciamo molto più spesso rispetto al passato, lo vediamo dalla partecipazione, sia dagli iscritti, sia dalla partecipazione al voto, le persone sono un pochino più refrattarie. Come fate ad andare dalle persone che non hanno nemmeno la cittadinanza, spesso immagino, vedo questi volantini in tutte le lingue, insomma e a coinvolgere una discussione non sanno che siete un partito politico, gli interessa molto di più parlare delle cose che del partito, sono curioso, che risposta avete? Ecco, allora diciamo che dobbiamo, il lavoro di intercettazione non è facile, però abbiamo al nostro fianco le associazioni di migranti che chiaramente dal loro punto di vista a partire politico, hanno comunque interesse ad andare laddove chiamati, hanno comunque interesse ad andare laddove ci sia la volontà di costruire insieme un dialogo che si basi prima di tutto sull'ascolto e sull'umiltà da parte del partito democratico, anche perché chiaramente abbiamo anche una posizione in cui esprimiamo il governo della città e quindi è necessario imporci in una posizione di umiltà e di ascolto. Sappiamo anche che non si ascoltano le persone per accontentare i bisogni delle persone, ma per fare un ragionamento insieme e poterci costruire insieme delle proposte e interpretare quel bisogno insieme, quindi abbiamo bisogno della fiducia delle persone e per riconquistarsela dobbiamo anche necessariamente appunto prima di tutto ascoltare, aprire, spalancare le nostre sedi e dall'altra parte dare continuità e seguito agli impegni presi. Per questo abbiamo pensato che fosse carente una giornata dove ci fosse rischio che ci fossero solo addetti ai lavori o i talofoni a parlare di temi che invece riguardano una cittadinanza che come sappiamo è da anni ormai oltre il 20% di popolazione residente non è nata in Italia e per questo motivo, senza parlare poi degli alunni nelle nostre scuole dove uno su tre è considerato straniero in maniera assolutamente fuorviante e anacronistica. Anche molti di coloro i quali sono qui nati per esempio, è giusto. Senta ma adesso mi faceva riflettere su quello che diceva rispetto alle associazioni anche dei migranti perché poi come lei fa notare non esistono solo i partiti, però ecco la politica c'è ma sta fuori, un po' fuori dai partiti, è un bene o un male questo? Lo chiedo a lei che coordino la segreteria di un partito, lei crede che ci sarebbe una risposta più organizzata se i partiti avessero più partecipazione o comunque un ruolo simile a quello che avevano nel novecento? Allora io penso che chiaramente la società civile sia una risorsa fondamentale e questo a prescindere dal colore politico, tutto il volontariato, tutto il civismo, tutto l'associazionismo è fondamentale per tenere un movimento culturale ma anche sociale perché molto spesso poi in maniera formale o informale le reti di cura cercano di rispondere nel nostro territorio anche alle nostre carenze. Chiaramente il fatto che il partito democratico debba avere anche una funzione culturale quindi di ascolto ma poi anche di lasciarsi permeare, lasciarsi effettivamente contaminare dai mondi, dall'identità, dalle pluralità che ci sono nel nostro territorio è fondamentale. Se riuscissimo a costruire una cultura comune basata sull'ascolto e sulla contaminazione, poi riusciremo ad essere anche più a nostra volta, per utilizzare un termine forse un po' nostalgico, egemonici. Va molto di moda in realtà perché non solo nei memi ma anche nel dibattito che c'è fra la cultura della destra che vorrebbe imporre, abbiamo assistito a quello che è successo alla Salone del Libro, comunque la si pensa insomma deprecabile il fatto che si arriva a tutto questo, però c'è un tentativo a proposito di locuzioni, di sostituzione culturale anche, legittimo o no secondo lei? Allora credo che sia legittimo che la destra, che un governo porti avanti fino in fondo le sue intenzioni, sarebbe auspicabile che lo facesse senza violare i diritti umani, senza creare conflitto sociale, senza soffiare sul fuoco della povertà, senza abbandonare le famiglie che si trovano in condizioni di precarietà, di povertà, senza prenderci in giro sul cambiamento climatico e numerose altre questioni, però penso che non possiamo deresponsabilizzarci rispetto al risultato delle elezioni politiche, così come poi chiaramente sul risultato delle elezioni amministrative. Il Partito Democratico ha rinunciato molto spesso ad andare oltre la funzione di governo, di buon governo. È successo anche a Poggio? È successo anche a Poggio, perché chiaramente Poggio non è Prato, ma il risultato di Poggio ci indica, è comunque monito per noi, perché il buon governo non è sufficiente. Il Partito Democratico viene premiato, lo abbiamo visto, laddove riesce a farsi contaminare, a porsi in ascolto con il mondo del civismo, della società civile, dell'associazionismo, a porsi in una posizione di dialogo. Nel momento in cui noi andiamo a disegnare le coalizioni, ma ci ritroviamo a dibattere esclusivamente su posizioni amministrative, senza aver avuto lo spazio, l'ossigeno, il margine per costruire una visione per le nostre città, anche insieme agli altri mondi. Poi ci troviamo chiaramente a riporre tutte le nostre fiduce negli ottimi amministratori che esprimiamo, che purtroppo non sono una sufficiente classe dirigente, perché classe dirigente si ritrova castrata nel momento in cui manca una comunità sotto, a tenere nel quotidiano i rapporti con i nostri centri abitati, le nostre periferie, i nostri territori, i luoghi che... La sua metafora è foriera di una rivendicazione anche femminista, comunque a parte le battute le volevo chiedere questo, è interessante quello che lei sta dicendo. Avete passato molti anni, lei e anche molti altri giovani del vostro partito a dire no, non è una questione generazionale, però è anche vero che questa posizione di ascolto che lei sta raccontando e di umiltà forse caratterizza più la vostra fascia dell'età che quella superiore, forse questa è la vera differenza, lasciamo perdere per un attimo la proposta politica su cui ci può incrociare. Non lo so, siete più in ascolto o sbaglio? Allora, non so se sia una questione generazionale, sicuramente io sento molto questa cosa con la nostra comunità, sono uscita dalla... sono uscita, sono ancora una giovane democratica sulla carta, ma... Quando si smette? Quando si smette, cioè a livello diciamo... a me rimangono ancora due anni diciamo, perché poi dopo il ventinuesimo anno passi al partito dei grandi, diciamo così... Ma che c'è il ventinuesimo anno di età? Sì, dopo il ventinuesimo anno di età poi sei... insomma dai, i trentenni sono del partito democratico, però diciamo io adesso che vivo più la comunità del partito democratico e basta senza diciamo quella della giovanile, sento comunque chiaramente questo senso di essere cresciuti, di esserci formati insieme e così via. Però non sono sicura che il fattore sia l'età, perché comunque negli anni, durante le campagne d'ascolto, durante i momenti di intercettazione, oppure come abbiamo detto tante volte quando andavamo a cercare a prenderci gli insulti nelle piazze dove non ci volevano ed era giusto che ci fosse un senso di sospetto ed è giusto tuttora che in alcune piazze ci sia un senso di sospetto perché non dobbiamo, questo ci ricorda che non dobbiamo andare a fare le vetrine se poi non vogliamo portare avanti seriamente e coerentemente delle politiche che rispondano a certi problemi, a certe questioni. Se vuole le do ragione ma non l'ho mai sentito dire a un 45enne che è giusto andarsi a prendere gli insulti nelle piazze. Però invece nelle piazze con noi c'erano tante persone, tanto che poi questo movimento ha portato all'espressione di Marco Biagioni come segretario della segretaria, ma quella mozione non era sostenuta dalla giovanile unicamente, anzi c'erano mondi che venivano dall'associazionismo, persone che si erano allontanate dal partito e si sono risesserate e devo dire che... Ed è diventata persino unitaria perché non si è poi misurata con nessun altro, non la voglio interrompere però c'è, anzi si voleva finire? No, no. Volevo dire questo però rispetto al discorso che sta facendo mi viene in mente anche che lei sta facendo come dire anche un'analisi che va oltre il percorso semplicemente politico e mi interessa molto perché il suo volto è finito nei giorni scorsi anche insomma fra quello di tanti altri, lo diciamo subito, fra quelli che sarebbero possibili l'espressione di una candidatura a sindaco, a sindaca in questo caso, nel 2024 sappiamo che fra un anno ci sono le elezioni, spesso ne parliamo qua con tutti i rappresentanti della politica, nei giorni prossimi approfondiremo i ballottaggi che rimangono, specie quello di Poggio Caiano, poi mi dice come la pensa, scusa, scusi quello di Campio Vigenze, poi mi dice come la pensa su quello dove si combattono le sinistre, però prima voglio parlare un attimo di lei solo un minuto, si è sentita tirata in ballo, è vero, come dire, le piacerebbe in futuro? No, ma insomma, io non avevo idea di essere nell'immaginazione di nessuno, chiaramente, sicuramente non lo ero nella mia. Però questo a sinistra va di moda a dire così, no? No, no, ma va bene, comunque insomma. È vero, è vero, vuole dire che è la verità, non ci pensa. Sono, non anche per idea, no, allora io penso che lì si parla anche della necessità per questa eventualità di un periodo di formazione, sì sì, un periodo di formazione di decenni per quanto mi riguarda prima di poter anche solo immaginare di, però… Secondo lei una persona della sua età non può fare il sindaco? No, certamente una persona della mia età può fare il sindaco e non ci sarebbe niente di male. Penso che, ecco, diciamo, per come sono cresciuta con la giovanile e così via sono abituata a un modello in cui esprimiamo le persone soltanto quando siamo sicure che siano pronte, che siano sostenute, che abbiano una comunità, che abbiano un programma, che siano capaci di… cioè non è importante… Un bel curriculum, mi viene da chiederle se ne avete uno a questo punto. Ma no, diciamo che tutti i nomi che ho visto sull'articolo, a parte il mio, sono insomma profili che rispetto assolutamente. Comunque ci sarà una discussione all'interno del partito, non sta accettamente… A troppo fair play, è difficilissimo intervistarla, a troppo fair play. Va bene, non le chiederò, anzi glielo chiederò, visto che coordino la segretaria, quando sarà il momento. Qual è la strada più giusta? E certo, insomma, non vogliamo fare semplice gossip, visto che stiamo parlando di politica. No, assolutamente, è un tema e sarà giusto parlarne. Per ora ci stiamo preoccupando di che cosa dovrà esprimere la persona e quindi quale sarà il programma. Già adesso, chiaramente, poi quando arrivi sotto amministrative e inizi a bussare alla porta delle persone, a chiedere la loro fiducia e ti dicono dove eri un anno fa, ecco, un anno fa è adesso e sarà colpa nostra se arriveremo a quel momento. Abbiamo visto che le città sono contendibili, che la situazione non è da dare per scontata, è importante mettersi in ascolto dal primo momento utile e iniziare subito a immaginare insieme che cosa vogliamo per la città del futuro. Ha visto cosa succede a Campi Bisenza, si combattono due sinistre, che cosa ne pensa? Il caso di Campi è unico, chiaramente, e probabilmente non replicabile. Penso che a Campi... Le piacerebbe più combattere con, insomma, lei fa parte del PD, coordina la segretaria, con un'altra sinistra o preferisce gli avversari della destra? Il sogno è una sinistra unita, però un contesto in cui la sinistra è così forte a livello culturale, così radicata, da dividersi addirittura, da contendersi il ballottaggio, vabbè, ci dà un segnale. Chiaramente non è la situazione che auspico poi a livello di coalizione, il Partito Democratico è in ascolto, in dialogo e disponibile a fare un ragionamento con le forze di sinistra, di centrosinistra, progressiste che hanno voglia di confrontarsi con noi. Lei cosa pensa? Che sarà possibile, a partire dalla posizione di ascolto e umiltà che ha espresso per tutta l'intervista, sarà possibile mettere dentro tutti, insomma, come dire, da Italia Viva sino al Movimento 5 Stelle oppure, insomma... Allora, non saprei... Sinceramente? Sinceramente, insomma, delle risposte, le abbiamo già viste, non sono tutte positive, però ecco, un conto è l'espressione di chi amministra, giustamente, e che è parte della propria comunità e un conto poi è la base, l'elettorato che risponde anche a una cultura, risponde anche a dei bisogni, quindi, insomma, io credo che nel momento in cui ci si pone nella posizione di voler dialogare sui temi, si vanno anche a disaggregare, a scartocciare quelle filiere e quelle appartenenze a prioristiche, diciamo così, per cui nel momento in cui riusciamo a prendere delle posizioni che rappresentano la cittadinanza, poi ci aspettiamo chiaramente un ritorno di vuoto di quella cittadinanza là, quindi più che fare un ragionamento di bacini, dobbiamo fare un ragionamento di bisogni, dobbiamo fare un ragionamento di che tipo di modello di sviluppo vogliamo per la nostra città, che politiche sociali vogliamo. Ma non crede che il modello che lei sta, insomma, mettendo anche in atto dal punto di vista ideologico sia un modello lontano dai cittadini? Glielo chiedo perché spesso mi sembra che le persone siano molto più interessate a... non voglio sminuire, non voglio dire problemi di piccolo cabotaggio, però sicuramente ha soluzioni che sono più vicine nel tempo rispetto a soluzioni di respiro, che io auspico sempre, però come fa a trovare questa risposta nei cittadini? Io su questa sono molto curioso. Allora, chiaramente non ho la risposta, però questo si collega in realtà anche alla domanda sull'impegno generazionale di cui parlava prima, perché la mia generazione, la generazione, anche persone più giovani di me, a dire il vero, perché ho quasi 30 anni, sono persone estremamente attive. Quando ci si lamenta che non partecipino alla politica, in realtà si è miopi, perché c'è un movimentismo, c'è un'agitazione culturale che è globale, che è veramente transnazionale, soltanto che è su single issues appunto. E quello che può essere percepito come la strada piena di buche, il problema del marciapiede o il problema di carenza di servizi, di trasporti, il traffico o altro, nella quotidianità di una persona di una generazione, è sentito come tema vicino e urgente il tema del cambiamento climatico o dei diritti LGBT, cui ha plus, o il tema dei diritti dei rifugiati e così via per un'altra generazione. Questo non vuol dire che non viviamo e che non vivano il tema comunque della precarietà della casa, questo è anche un tema all'ordine del giorno e così via. Lo speriamo, perché vediamo anche sui giornali, lo leggiamo spesso, insomma è un altro dei temi che ci interessano molto da vicino. Assolutamente, quello che possiamo sperare di fare è che una persona da, diciamo così, cittadino passivo o cittadino, nel momento in cui una persona da avere dei bisogni, a fare qualcosa per rispondere a quei bisogni, ha fatto un passaggio, ha fatto questo passo, per noi è già una vittoria, non importa che si iscriva al Partito Democratico, ma nel momento in cui il Partito Democratico ascolta quella persona e decide di fare qualcosa insieme a quella persona, non per Macron, a quel punto quella persona sono convinta che si trasformerà, spero in più casi possibili, da attivista o da cittadino o da elettore a militante, perché questa è la militanza, trovare un contesto in cui con una comunità puoi portare avanti delle proposte. Allora certo che chi vive un'emergenza, chi vive un problema, chi vive una precarietà, chi non vede futuro non ha voglia di stare a parlare di massimi di sistemi o di ideologia, l'ideologia non va imposta, però se di tanti bisogni particolari noi riusciamo a costruire una visione comune di società, lì allora possiamo parlare veramente di avere una cultura comune e allora possiamo tornare a parlare anche di riferimenti ideologici senza che necessariamente quello sia un obiettivo, però è uno strumento, penso, non da demonizzare. Grazie, davvero grazie perché ho accettato di rispondere a tutte le domande, anche a volte provocatorie, rispetto a quello che è il percorso che state facendo, spero che a questo punto, nonostante siamo veramente fuori tempo, possa venire, lo dico una volta, anche a raccontarci quello che è la restituzione e magari la vostra proposta, la proposta pratese su un tema così importante, insomma anche su cui sono d'accordo a tutti che sia da riformare, la discussione se non avviene qui abbiamo capito perché dalle caratteristiche che Maria Luglie ha elencato dove altro dovrebbe avvenire, quindi insomma aspettiamo questa restituzione, ringraziamo i nostri telespettatori, ringrazio ancora una volta Maria Luglie coordinatrice della segretaria del Partito Democratico e vi diamo appuntamento domattina alle 7.30 qui sul 75 con Prima di questo programma è stato offerto da Conf Commercio Pistoia e Prato, scopri i vantaggi di essere socio Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro, www.nigrocostruzioni.it www.nigrocostruzioni.it